musica musica ed eccoci al Big Ben peccato per l'impalcatura che allora viene al posto musica 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 Quella mi sembrava più una ruota di calo crocetti, altro che panchina, vi serve qualche libro? Modalità restrizioni, sono donne ma hanno delle spalle peggio di maciste, mamma mia I Bessi Poi, sono donne ma stocche, mamma mia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene ragazzi, il Giro di Londra finisce qua. Fatemi sapere se vi è piaciuto e fatemi sapere anche se volete altri video del genere. In una giornata non ho potuto farvi vedere tutto, ma ci sarebbero tantissime altre cose da vedere, che posso farvi vedere tutti i musei, che la maggior parte tra l'altro sono gratis, dunque il mio portafoglio mi ringrazierà. Non avevo il tempo materiale di farvi vedere tutto in una giornata solo, dunque vi ho fatto vedere le cose principali. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, condividete questo video sui vostri social network preferiti, mettete un bel mi piace. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere come sempre con un commento qua sotto. Restate aggiornati, vi ricordo un video ogni 10 giorni. Ci vediamo al prossimo video. Fate bravi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.